Il buono arriva, ma non è troppo spietato, c'è qualche stessa, è come un disegno sprezzato, qualche lampione, vinto un olimo isolato, freddo e perduto, le strade vuote, non c'è neanche il classico cane, ha vinto ancora, signora televisione, signor Troia, agita il cubo, sembra con intenzione. Il mandatore gioca la carta sbagliata, il suo compagno proprio non è digerita, un ferro sta zitto, tanto con lui non si vince mai la partita. Bistecca intanto, urla per una bignera e sul suo letto si sta ballando un volero, sua moglie brucia di febbre di vita e si sta facendo le cure. Mario da un colpo di straccio al banco del bar. Mario dopo un po' di straccio al banco del bar Mario dopo un po' di straccio al banco del bar Mario small in a crossfire hurricane E' un po' di straccio al banco del bar Mario... 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 Sì... M阪... Ferrara... Grazie.